La sensazione di un gol perfetto, un tiro da fuori aria che si insacca nel set, un colpo di tac, una rovesciata, uno stadio che urla. Calcio è lo scarso, però sapevo parlare ai miei compagni. Come allenarsi, dove investire, persino le donne da scegliere. Ecco il mio talento, farmi i cazzi vostri. E così sono diventato un procuratore. Quello in sei mesi si è preso il controllo del calciomercato. Senza i calciatori non avresti nessuna pubblicità. Non mi interessa quello che pensa, quando avrà trovato un accordo dovrà accettarlo. Io ho solo una carriera, ma tu stai nella merda fino al culo con questo processo, no? Diciamo che io potrei avere bisogno di qualcuno che sta di calcio e che abbia l'abilitazione da procuratore. Tu magari qualcuno che ti dà qualche consiglio, no? Perché come dice Murigno, che sta solo di calcio. Non sa niente di calcio. Esattamente. Noi non siamo altro che burocrazia. Noi siamo le divinità che piegano le regole del gioco. Non voglio distruggere mio padre. Voglio solo il suo posto. Stiamo rischiando il suo contratto per i tuoi interessi, eh? Io spero soltanto tu sappia cosa stai facendo. Io lo so sempre. Tu sei un asset e io lo farò fruttare al massimo delle mie capacità. L'ho creata io da nulla questa società. È mia. Di nessun altro. Non c'è nessuna guerra. Può uscirne quando vuoi. Un bravo procuratore non ti dice quello che può fare per te. Ma ti aiuta a diventare uno che sa quello che vuole. Ma ti aiuta a diventare uno 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 che vuole. Grazie a tutti.